C'è una presunta guerra in corso tra l'ex amministrazione che in questo caso è rappresentata da Alberto Pompizzi che ho qui di fronte a me e l'attuale governo Luzzi sul piano regolatore. Che succede? Beh sembra quasi che la campagna elettorale del sindaco Luzzi duri dieci anni invece di un mese e quindi continuano ancora a dire cose assurde tipo questa sul piano regolatore. La verità vera è questa che noi abbiamo portato in giunta il piano che a marzo del 2014. Questo piano era il primo piano condiviso e partecipato dei cittadini in quando avevamo già prima esaminato e approvato parzialmente 190 ricorsi, 190 proposte chiedo scusa. Aspettevamo che la regione con la procedura per la microzonizzazione ci ridesse il piano entro maggio. Poi sono passati due anni. Due anni l'amministrazione comunale si è seduta aspettando che tornasse la microzonizzazione che è una procedura burocratica normale che è obbligatoria per tutti i piani regolatori. A fronte di questo oggi vanno sbandierando che siamo stati noi che abbiamo perso tempo. Noi in 27 mesi abbiamo proposto una bozza di piano in giunta che andava in consiglio dopo la microzonizzazione e che teneva conto intanto del lavoro svolto già dall'amministrazione Fucilitti. E quindi poi successivamente noi abbiamo rifatto il bando e in questi 27 mesi abbiamo proposto un piano. Un piano che stesse molto attento in dando all'esigenza dei cittadini perché Sant'Omero se non è cresciuto qualcuno se ne dovrà pure far carico. E poi tenendo conto pure di una crescita turistica del paese, turistica e agroturistica. Comunque adesso questo PRG in pratica è fermo in un cassetto? Questo PRG è fermo in un cassetto non si capisce perché. Addirittura la bozza di questo PRG noi l'avevamo messo sul sito del comune e quindi era visitabile da tutto il mondo e non si capisce perché. Addirittura hanno perso nove mesi per vedere il piano acustico. Purtroppo Sant'Omero ha perso una grande opportunità perché con questo piano si rilanciava il paese ma anche a livello economico. Basta dire che c'era solo un'azienda che avrebbe dovuto versare al rilascio della concessione 15 milioni di euro. E non era per una discarica, era per un'attrezzatura sociosanitaria. Noi avevamo vocato il territorio sullo sviluppo turistico con belle iniziative che se ne stanno andando via tutte.